Determinazione di Kim Kardashian. Allora, abbiamo già fatto anche un altro video più breve, un reel dove ne parliamo nello specifico. Non voglio assolutamente parlare della dieta che ha seguito, della questione salutare, eccetera, perché abbiamo capito che non è sicuramente la soluzione ideale. Ma parliamo un attimo dell'aspetto mentale, del mindset che ha inconsciamente magari anche adottato Kim Kardashian per questa determinata situazione. Aveva questo evento in cui voleva assolutamente indossare il famosissimo vestito di Marilyn Monroe che aveva utilizzato più di 60 anni fa, ok? Così sicuramente da entrare nella storia, quindi è stato sicuramente un momento molto importante per lei, ok? Per farsi ricordare ancora di più, per diventare ancora più famosa, tutto quello che vogliamo. Ci interessa però prendere in considerazione la sua mentalità e questo dovete prendere in considerazione tutte quante voi, perché se non riuscite a raggiungere un obiettivo o se al momento vivi, vivete in una condizione fisica, in una condizione estetica in cui avete troppa massa grassa, avete un fisico poco sodo, poco tonico e non vi piace, avete troppi inestetismi, è a causa di quelle azioni che avete fatto finora per arrivarci, ok? Quindi ricordiamo che le azioni e le abitudini che compiamo nel quotidiano vengono eseguite per il 95% delle volte inconsciamente, ok? Tutte queste cose poi le spieghiamo in modo approfondito nel nostro videocorso sul mindset, mindset di ferro. Per renderla molto semplice però, quotidianamente agiamo principalmente col autopilot, ok? In autopilota per il 95% delle volte, quindi dobbiamo settare tutte le giuste abitudini che nel tempo ci portano ad aggiungere il nostro obiettivo, ok? Le azioni che ha intrapreso lei, Kim Kardashian, in queste settimane per arrivare al determinato obiettivo che aveva, ovviamente era in tempi brevissimi, ok? Non sono assolutamente salutari, però cosa ha fatto? Ha settato un obiettivo, l'ha messo come assoluta priorità, l'ha messo al primo posto e cadesse il mondo, ha fatto qualsiasi cosa pur di riuscirci, ok? Quindi quello che dovete andare a fare, assolutamente vi ripeto, perché è bene ripeterlo, so poi che vengono frentesi i video, non dovete mettere in repentaglio la vostra salute, il vostro fisico, oppure di perdere qualche chilo, oppure di stare bene in un determinato vestito, questo assolutamente no! Quello che vogliamo fare è andare ad agire sul mindset, ovviamente non bastano due settimane, serve un lavoro sicuramente più dedicato e più long term, per settare quelle che sono le giuste abitudini, per fissarvele dentro nell'inconscio, così che quotidianamente andate ad eseguire queste azioni, queste abitudini che sono coerenti con il vostro obiettivo. Un esempio banale potrebbe essere che se vuoi migliorare lo stato della tua pelle, vuoi essere una donna in forma e in salute, sicuramente non puoi fumare. Se al momento fumi e non riesci a smettere di fumare e ti piace fumare, perché inconsciamente nei magazzini più nascosti del tuo corpo, della tua mente, hai che fumare va bene, ok? Potrà sembrarti una banalità, perché consciamente magari riesci a riconoscere che fumare fa male, è inutile, non va bene, eccetera eccetera, ma lo continui a fare. È proprio qua che cambia la mentalità di una donna in salute, in forma sana, determinata ad aggiungere un tipo di fisico e un tipo di forma, contrariamente a una donna che non ci riesce, perché non ha settato nell'inconscio le giuste abitudini, ok? Potrai eseguire una dieta mortale per una o due settimane, ma se poi dentro di te non hai settato le giuste cose, continuerai a tornare sul vecchio tracciato che non ti porta da nessuna parte, ok? Non è coerente con quello che realmente vuoi raggiungere, quindi spesso se ti ritrovi in una condizione di grasso eccessivo, di sovrappeso e di obesità, tralasciando patologie particolari, è perché non hai la giusta mentalità. Bisogna agire prima su quella con il giusto sistema, che comprende più variabili, proprio per questo che puntiamo sul nostro triangolo della bellezza, che comprende oltre l'alimentazione e l'allenamento, che sono due capisaldi per migliorare in ottica estetica. C'è anche di stessa fondamentale importanza il mindset, tutto parte da lì, ricordalo.